Lo hanno voluto salutare tutti ancora una volta, increduli nell'aver perso il figlio, il fratello, l'amico, il compagno di scuola, il collega. Hanno voluto toccare durante i funerali il feretro del regista Giuseppe Petitto, il 46enne che ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla 106 lo scorso 2 settembre all'altezza di Pietragrande, quasi a voler rendere meno insopportabile il distacco. Dolore e commozione nella chiesa del Santissimo Salvatore a Catanzaro, a Rione dei Filippis, dove l'uomo che amava trasformare i sogni in realtà si era cresciuto. Durante l'omelia Don Vincenzo Zoccali ha ricordato la figura dell'uomo regista, una persona semplice, nonostante la notorietà era schivo e riservato. La fede consente di trasformare il ricordo in preghiera, ha detto il sacerdote. Ai funerali c'era anche la Marta Production, con cui il regista in questi giorni stava ultimando la post-produzione di Luz in the Sky, il suo ultimo progetto che per sua volontà cambierà titolo. Si chiamerà Ironia della Sorte, Occhi Chiusi. Il cinema italiano perde non solo un grande talento, ma anche un personaggio che ha dato onore alla Calabria. Nel corso della sua breve ma intensa carriera, Giuseppe che da tempo viveva a Roma ha diretto, prodotto e montato cortometraggi di finzione e documentari distribuiti nelle sale cinematografiche di diversi paesi europei e degli Stati Uniti, apprezzati anche da Arthur Penn e Martin Scorsese.